Ciao a tutti ragazzi! Oggi parliamo dell'abbigliamento The North Face, versione uomo e donna, abbigliamento tre stagioni diciamo, primavera, estate, autunno. Vedremo il completo, quindi pantalone, secondo strato e giacca. Poi naturalmente come al solito troverete tutti i link in descrizione di tutti i prodotti di cui parliamo e detto ciò iniziamo subito col video. Iniziamo dal pantalone che nel mio caso è un leggings a vita alta. Nella parte superiore infatti è presente un'ampia cintura con all'interno dei cordini per poterla regolare. La vestibilità è molto aderente però il punto forte di questo pantalone a mio parere è che nonostante l'aderenza la libertà di movimento è estrema. Una volta indossati infatti non li sentirete per nulla. Flessibilità, sostegno e libertà di movimento sono davvero i punti forti di questo pantalone. Per quanto riguarda il tessuto questo è tecnico e super resistente. Le cuciture sono davvero ben fatte e vi assicuro che questo pantalone ha tutte le carte in regola per essere un capo che dura nel tempo. Passando invece al pantalone da uomo, qui abbiamo una vestibilità che oserei dire a metà tra lo slim fit e regular, quasi uno slim fit un po' abbondante nel senso che il capo fa un po' di pieghe quando lo utilizziamo. Non dà fastidio, non è così ben portante a livello del cavallo, però lo si usa senza tanti problemi. Io l'ho utilizzato in giornate in cui ci ho camminato tante tante ore e non mi ha dato così fastidio. A livello di materiali il pantalone non è impermeabile e il tessuto con cui ho fatto non è nemmeno tanto elasticizzato. In compenso però il materiale è ottimo, ci ho strusciato contro tantissime rocce e vi assicuro che non ha nessun tipo di abrasione, le cuciture sono fatte bene e non ha nessun filetto che inizia da svolazzare, quindi i materiali da questo punto di vista veramente buoni. Per quanto riguarda la regolazione troviamo una singola regolazione all'altezza della vita, non c'è la possibilità di mettere la cintura e questa regolazione non mi è piaciuta così tanto perché non è fatta all'esterno del pantalone ma all'interno, quindi quando noi andiamo a stringere, se il pantalone si stringe, ma avremo il nodo con i relativi lacci eccetera che vanno a toccare sulla nostra pancia, quindi diciamo che se fosse stata fatta all'esterno l'allacciatura sarà stata decisamente meglio. Passiamo ora al secondo strato che è una vestibilità slim, con un paio di leggings secondo me questo capo trova veramente il suo impiego migliore. Il tessuto è in pile elasticizzato quindi vi garantisce un'ottima libertà di movimento ma allo stesso tempo vi mantiene al caldo. È un secondo strato, tre stagioni che quindi utilizzerei in estate, la sera soprattutto se fate bivacchi o campeggiate in tenda, in primavera e in autunno anche durante tutta la giornata senza alcun problema. Non ho riscontrato problematicità sulla traspirabilità del capo quindi ve lo consiglio fortemente e invece andando ai dettagli secondo me il grande assente di questo capo è il cappuccio che è un dettaglio che magari ad alcuni può dar fastidio ma che io trovo veramente sempre utile avere in secondo strato. Un aspetto super positivo che ho riscontrato invece è il fatto che questo capo ci difende molto bene anche dal vento. Passando agli ultimi dettagli trovate appunto questa zip frontale centrale che corre a tutta lunghezza e un collo che non è né troppo alto né troppo basso quindi secondo me una buona via di mezzo e infine due comode tasche laterali con la zip di sicurezza per non perdere i vostri oggetti personali o per tenere semplicemente le mani al caldo. Parlando invece del secondo strato da uomo questo è una felpa non imbottita non è fatta in pile infatti nelle giornate quelle magari primaverili e ottunnali in cui fa un pochino freddo non ve la consiglio tanto o meglio mettete sotto magari una maglia pesante però per il resto ha una buona traspirabilità questo sì e in generale mi ci sono trovato abbastanza bene. Per quanto riguarda il polsino questo qua non è elasticizzato infatti se lo faccio cadere sulla mia mano rompe un pochino le scatole è stato meglio averlo elasticizzato in modo tale che andava a chiudersi sul polso. In generale poi la vestibilità è abbastanza grossa in teoria è una maglia regular però questa è una M secondo me una S a mio parere su di me sarebbe andata meglio quindi vi consiglio innanzitutto andare a provarle ma a tener conto che vestono un pochino larghe. Che altro dire innanzitutto il capo presenta una cerniera a tutta lunghezza che arriva fin sopra dove noi andiamo a chiuderlo e soprattutto non va più in alto del nostro vento quindi non ci disturba anche a capo completamente chiuso. Non abbiamo il cappuccio e abbiamo inoltre anche due tasche poste all'altezza della vita dove poter andare a richiudere le mani o mettere qualche altro oggetto e queste tasche sono richiudibili tramite una cerniera. Infine parlando dei materiali questa giacca mi è piaciuta parecchio lo sto utilizzando davvero tanto tempo è un materiale elasticizzato quindi anche se dovessimo metterci sotto qualcosa di particolarmente pesante questa tenderebbe a ingrossarsi proprio perché elasticizzato e mi è piaciuto nel senso vi assicuro che anche con questo ci ha strusciato contro le rocce senza tanti problemi non ha nessun filo che si sta rompendo le cuciture sono ancora integre non ho visto particolari rotture quindi davvero qualità dei materiali in questo caso ci siamo. Passiamo ora all'ultimo capo forse anche il più importante l'impermeabile. Questo impermeabile ha un taglio davvero molto particolare che personalmente non apprezzo ma vi spiegherò dopo come potete vedere ha un taglio veramente corto arriva sopra la vita e continua con una vestibilità che non è proprio slim quindi non è molto aderente e ha delle maniche estremamente lunghe. Ripeto è un taglio molto particolare non solo non apprezzo dal punto di vista estetico ma che trovo anche poco funzionale per l'uso che può farne un escursionista. Mi spiego meglio come potete vedere nella parte inferiore c'è buona parte del secondo strato che rimane esposta che non viene coperta dall'impermeabile e capite bene che nel momento in cui viene a piovere non coprendo l'impermeabile l'intero secondo strato questo andrà inevitabilmente a bagnarsi. Passando al tessuto invece questa giacca ha un rivestimento esterno con tecnologia dry vent una tecnologia che The North Face utilizza su diversi suoi capi ma che personalmente non ho apprezzato molto o meglio questa membrana secondo me dà il meglio di sé per proteggerci dal vento un poco meno per dall'acqua e soprattutto il più grande difetto di questo dry vent di questa tecnologia dry vent è a mio parere la traspirabilità diverse volte mi sono trovata a fare escursioni sotto la pioggia e camminando ci ho sudato parecchio all'interno quindi veramente poco gradevole. Infine passiamo ai dettagli come potete vedere c'è anche qui questa zip che corre a tutta lunghezza due comode tasche laterali anch'esse con la zip per poterle richiudere e infine il cappuccio che forse è la cosa fatta meglio di questo capo perché presenta una visiera che consente di avere un'ottima visibilità ha una regolazione posteriore per poter far aderire il cappuccio alla nostra testa altre due regolazioni sono presenti nella parte inferiore della giacca personalmente non le ho trovate così utili quindi secondo me lasciano il tempo che trovano però ve le segnalo comunque. Passiamo invece alla giacca da uomo innanzitutto vi dico che la vestibilità è regular e vi assicuro che questo caso la giacca è veramente grossa anche se ci metto sotto magari un piumino per proteggermi di più del freddo la giacca rimane molto grossa una taglia in meno sarebbe andata decisamente meglio. Questa cosa l'ho notata particolarmente sulle braccia dove ho tantissimo materiale in più e anche sulla parte delle spalle dove c'è tanto materiale non tanto nella parte bassa quella sulla vita perché abbiamo degli elastici richiudibili che ci permettono di poter avvicinare la giacca al nostro corpo e chiuderci dentro però sì vi consiglio in questo caso se volete prendere questa giacca di prendere una taglia in meno perché anche questa veste decisamente grande. Per quanto riguarda i particolari abbiamo sui polsi la possibilità di chiudere uno strap per poter chiudere il polsino abbiamo una cerniera che naturalmente che corre a tutta lunghezza con anche due tasche all'altezza della vita richiudibili dove ci sta abbastanza materiale nel senso ci stanno un po' di roba e come dicevo richiudibili tramite cerniera abbiamo il cappuccio che ha diritto da tre regolazioni perché ne abbiamo due all'altezza del collo e una nella parte superiore del cappuccio per poterlo richiudere e per il resto che dire abbiamo un sacco di regolazioni quindi questo mi piace per quanto riguarda la giacca però resta comunque la mia avvertenza di provarla perché è una giacca che veste abbastanza grosso. Infine per quanto riguarda i materiali allora vi assicuro che l'ho utilizzata sotto una bella portata d'acqua e non ho avuto nessun problema per quanto riguarda l'impermeabilità il future light abbiamo capito è un buon materiale non mi ha convinto la traspirabilità non tanto del future light proprio come materiale quanto di come è stata pensata la giacca avrei preferito ci fossero state due zip da poter aprire nella parte sotto l'ascella così da poter far uscire ancora di più l'umidità e ancora di più il calore generato queste non ci sono e ammetto che alla lunga si sente si sente perché comunque in questa giacca un po si suda due zip davvero sarebbe stato il top e anche in questo caso per quanto riguarda i materiali fatto bene non ci sono cuciture che si sta rompendo non ci sono abrasioni particolari quindi anche qua qualità dei materiali ci siamo aspetto non da poco di questa giacca che ho veramente apprezzato tanto è il fatto che la giacca sia richiudibile noi possiamo richiuderla all'interno di una cerniera interna che c'è nella parte interna e vi assicuro che questa giacca diventa veramente piccola ed è ottima per essere portata all'interno di uno zaino nel caso dovessimo fare anche dei trekking molto lunghi arriviamo dunque alla conclusione finiamo spiegandovi quali capi vi consigliamo e quali no prego allora facendo delle considerazioni finali sinceramente avrete capito anche voi che i capi migliori sono i leggings e il secondo strato secondo me sono veramente dei capi must have nel vostro armadio e vi dureranno davvero molto nel tempo quindi non posso che consigliarveli la giacca impermeabile sinceramente solo anche solo per il taglio che ha la lascerei in un armadio diciamo lifestyle e veramente lo escluderei ne escluderei l'utilizzo in montagna per quanto riguarda i capi maschili invece mi sento abbastanza di consigliarveli tutti l'unica cosa fate attenzione alle taglie perché non tanto il secondo strato ma soprattutto la giacca vestono veramente veramente grosso quindi il mio consiglio andateli a provare perché le taglie di the north face in questo caso vestono molto all'americana detto ciò però noi vi ringraziamo per aver guardato anche questa recensione e nella speranza di essere stati esaurienti ed esaustivi come sempre noi vi ringraziamo e noi ci vediamo al prossimo video ciao